Ogni volta che vengo a Milano ne approfitto per assaggiare qualcosa di nuovo Oggi proviamo a colazione una pasticceria un po' particolare Adesso scoprirai perché Il locale in questione si chiama Nepà E tutti questi dolci che vedete hanno in comune una cosa che ti dirò alla fine Prova a indovinare Il locale è molto carino e elegante E questo è il menù con tutti i prezzi Guardate quanta scelta di latte vegetale Abbiamo provato due maritozzi al pistacchio Uno con panna e fragole E un cannellino Che era veramente molto buono La crema era fresca e saporita E il maritozzi mi ha dato tantissima soddisfazione Hai capito qual è la particolarità di questa pasticceria? Tutto è 100% vegano Lo proveresti?